Figli dei Rattilovers a rapporto, qui c'è il vostro prossimo regalo di Natale Il vostro regalo di Natale 2020, magari anche 21, 22, 23, 24, 25 Ma insomma per un po' di Natale siete a posto E Opel Corsa 120esimo Anniversario Vediamo subito insieme l'infotainment che sono sicuro sarà la parte che vi interessa di più Eccoci qua a bordo Innanzitutto l'auto ha pochissimi chilometri 19241, c'è tutto quello che vi serve C'è la classica radio FM, si può connettere il proprio dispositivo O fare il mirror link E qua le varie impostazioni del veicolo Vi basta connettere il telefono con un cavo USB E automaticamente avrete Apple CarPlay Android Auto Beh cos'altro, poi hai i comandi al volante Con il limitatore di velocità e i comandi vocali La modalità City che rende le manovre ancora più semplici E un'auto stilosissima con cui farete invidia ai vostri amici O magari riuscirete a conquistare finalmente la ragazza dei vostri sogni Ve lo sicuro, vi do la mia parola Ne sono arrivate una bella sfilza Ma andranno presto a Ruba Quindi non fatevele scappare Correte subito su RattiAuto.com Link in descrizione Opel Corsa e più di 600 auto disponibili solo da RattiAuto A presto, ciao!